buonasera io sono smock e sono tornato e voi vi chiederete tornato dove e tu chi sei e mia mamma dov'è aspetta ma sta andando sto cazzo di roba la verità è che questo canale ha una storia lunghissima che dura due anni ma poi mi sono reso conto che non riuscivo a esprimere il mio potenziale non riuscivo a dare quello che volevo veramente dare al mio pubblico e quindi è perché e poi ho fatto una scoperta e quella scoperta sono io iniziamo con una mia macro presentazione il mio house tour ciao buonasera entri eh benvenuto la cari buonasera benvenuto il mio house tour venga la prego mi segua adesso se mi segua ci avviciniamo a camera mia dove di solito sono intento a fare cose molto private mi segua mi segua ehi ma c'è qualcuno ma di chi stai parlare no 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 mi segua non faccia non faccia scherzi questa è la mia stanza come stai dicendo qua qua mi dico soprattutto al studio della verità e più scientifica diciamo ecco qua come vedete ci sono i miei libri da me cosa stai inquadrando non in qua di certa cosa ok quello quello sono io anche quello sono io in un qualche modo e qua abbiamo finito mi segua nell'altra stanza non tocchi niente sai cosa potremmo fare per concludere il video praticamente noi io mi metto in mezzo al giardino e faccio e questo è il mio giardino e questo è il mio giardino che dia del cazzo il mio video finisce qui se volete aiutarmi io sono smock quindi mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale mi sento un po' in imbarazzo a dire queste cose quindi se per favore andate a vedere il video di qualcun altro dove dice esattamente le stesse cose alla fine del video ecco voi fate le stesse cose per me e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao